A Mattarella ho rappresentato la concatenazione e l'eccezionalità epocale degli eventi che hanno colpito l'Abruzzo nel mese di gennaio. Il maltempo e i suoi deleteri effetti collaterali sulla rete elettrica e sulla viabilità, il terremoto e il timore per le possibili conseguenze sulle grandi dighe, le tragedie di Rigopiano e di Campo Felice. Gli ho anche parlato delle ripercussioni che tali calamità hanno avuto non solo sulla popolazione ma anche sulle attività produttive. Così il presidente della giunta regionale abruzzese, Luciano D'Alfonso, che oggi ha incontrato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme agli assessori regionali Silvio Paolucci e Andrea Gerosolimo. A Mattarella ho chiesto di porre una speciale attenzione sugli strumenti normativi che saranno varati dal governo per consentire all'Abruzzo di rialzarsi e ripartire, a concluso il governatore. Ho conosciuto un uomo dalle straordinarie doti umani e dall'infinita sensibilità che, oltre a prendere l'impegno di venire presto in Abruzzo per toccare con mano le nostre difficoltà, ha promesso di adoperarsi per garantire che l'Abruzzo possa presto tornare ad essere quella regione bella, accogliente ed operaia che tutti conosciamo, e quanto ha scritto su suo profilo Facebook l'assessore regionale Andrea Gerosolimo.